Vai con le mani! Amici di Giti Farotim, buonasera! Mamma mia, che sprizzante che siamo stasera! Eh sì, ho bevuto otto caffè! No, in realtà dillo perché siamo così frizzanti questa sera! Perché questa è l'ultima tappa di Miss Città Murata! Valida per la selezione del 4 settembre del 2024! Per la finalissima del 4 settembre del 2024! Che secondo me ci regalerà veramente tanta bellezza, tanta eleganza e tanto sangue tra le nostre miss! Sono veramente curiosa di vederle! Sì, ma dopo guarda che ogni volta ci dicono che in backstage sono tutte amiche, quindi non dire queste cose qua! E dopo si supportano a vicenda, dai Giulia! Ma è vero che magari nel backstage si supportano a vicenda, però io vedi i colpi di tacco che si tirano in passerella! E lì è tutto diverso Beatrice, però detto questo sta per iniziare la selezione! Io direi che dobbiamo andare a sederci! Assolutamente! Quindi ci vediamo alla fine con le interviste! Team Amis Città Murata 2024! Selezione per la Regione Veneto di Deluca, Peria, Alcalino! Conduce la serata Eleonora Sorato! Torniamo al concorso perché vi spiego un po' come funziona! La nostra Giulia valuterà le nostre ragazze con la maglietta Bonanno e successivamente appunto con un costume da bagno Paradise Beachwear dove le ragazze si autopresenteranno appunto nella seconda uscita. E queste saranno le uniche uscite valide e quindi del concorso! Successivamente vedremo a sfilare le nostre ragazze come delle vere e proprie modelle con i gioielli di Rialto Asolo e con la collezione Spring Summer di Stone House e Shateau Poshet di Castelmillo di Resana. Ringrazio anche tutti gli altri sponsor della serata, Elmo S.P.A. Global Solution Security, Fineco Bang, il Salone Aria Capelli Asolo per aver curato le affonciature mie e dell'inizio, Paradise Beachwear, Scuola di Moda Top Team e Asia Data Communication. Allora io mi sposto perché lascio la scena a loro, iniziamo con la votazione con la prima concorrente! Elisabetta, 16 anni, arriva da San Martino di Lumbari! Numero 2, Sofia! Numero 3, Poliana, 17 anni ma fra poco ne compirà 18, fra pochissimi giorni, vero? Arriva da Vicenza! Numero 4, Aurora! Numero 5, ecco a voi Andrea, 15 anni ma fra poco ne compirà 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 15 anni ma fra Concorrente Veronica, la nostra Veronica porta al numero 6, 24 anni, abita a Rossano Veneto. Prossima concorrente la numero 7, Giorgia, lei ha 28 anni, abita a Schiavonna. Numero 8, Alessandra, 22 anni, arriva da Zuliano. La prossima missa in gara è la numero 9, Valentina, 17 anni, abita a Sarcedo. Numero 10, Lucrezia, 16 anni, abita a Previso. numero 11, Rossella, 15 anni, abita a Castelfranco Veneto numero 12, Camilla, 21 anni, arriva da San Donato di Piave e dopo Camilla Arianna, numero 13, 27 anni di Vicenza la prossima missa arriva dal Vignateco, numero 14, Marianna, 18 anni numero 15, Sidney, 19 anni, arriva da Roncade numero 16, Beatrice, 23 anni e abita ad Altivole numero 17, la prossima concordente arriva da Paziano di Porninone, Trama Bianca e ha 26 anni e la prossima concorrente la numero 18, Benisa Madalina, 17 anni, arriva da Roncade andiamo a conoscere anche Rachele andiamo a conoscere anche Rachele e adesso andiamo a conoscere anche Rachele e adesso andiamo a conoscere anche Rachele numero 21, vi presento Giorgia, 17 anni, abita a Mazerra Numero 22, Cosmina, 22 anni, arriva da Ormelle Numero 22, Cosmina, 22 anni, arriva da Piuso d'Archipo Numero 24, Cosmina, 17 anni, arriva da Preganziolla Numero 22, Cosmina, 18 anni, arriva da Preganziolla Come ben sapete abbiamo già selezionato 24 ragazze, questa sera se ne aggiungeranno altre 6 L'ultima, la trentesima, verrà scelta tramite un contest online per tutte le mie social di cui vi parlerò più tardi Colgo un'occasione anche per ringraziare tutti i media partner dell'evento Radio Stereo Città, Radio Gemini, Radio Caffè, Città e Stori, People Magazine, Violetto Communication e Nordeste il tuo magazine Un applauso anche a coloro che poi parleranno di questa serata nei loro social e anche nella carta stampata Bene, allora se mi confermano che le ragazze sono pronte Le vediamo velocemente in costume e poi si autopresenteranno Sigla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera a tutti Sono Elisabetta E nella vita studio in un istituto tecnico E i miei occhi preferiti sono viaggiare e leggere e ho una grande passione per la moda Siamo in due allora Prego Elisabetta Sofia 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 Buonasera a tutti Mi chiamo Poliana Andiamo avanti con Aurora Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Mi chiamo Andrea Grazie a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Nella vita lavoro in uno studio notarile studio in giurisprudenza Sono una persona molto intraprendente So organizzarmi e nel frattempo faccio anche pallavolo quindi direi che sono abbastanza impegnata, mi piace la moda e quindi eccoci qua. Grazie Veronica! E andiamo avanti con Giorgia, quella che arriva! Le calzature sono la mia passione, infatti è una passione diventata di professione, ma sono anche scorriva e mi piace molto la rimontagna. Passerella per la nostra Giorgia! Numero 8! Alessandra! Come sarà a tutti? Sono Alessandra. Io sto studiando all'università, pedagogia, e niente, spero un giorno di riuscire a trovare un lavoro che mi renda indipendente e che mi realizzi come persona. Insegnante? Sì, in quel campo. Con i bambini, giusto? O ragazzini? Passerella anche per la nostra Alessandra! Numero 9! Ecco a voi Valentina! Buonasera a tutti, io sono Valentina, 17 anni, nella vita studio sistemi informativi aziendali, nell'istituto tecnico, e la mia passione più grande è la ginnastica artistica, e proprio per questo, in un futuro, spero di diventare un'allenatrice di qualche squadra abbastanza importante. Eccola qui, intanto, davanti alla nostra giuria. Noi proseguiamo e andiamo a conoscere anche Lucrezia, concorrente numero 10. Buonasera a tutti, sono Lucrezia, ho 16 anni e vengo da Previso. Nella vita sono una studentezza, infatti frequento il terzo anno di liceo linguistico. In un futuro mi piacerebbe laurearmi in giurisprudenza e capire la carriera di magistratura. Però hanno le idee chiare le nostre ragazze, eccola in passerella! E andiamo anche a conoscere Rossella. Buonasera a tutti, sono Rossella, 15 anni, arrivo a Castelfranco Veneto, nella vita frequento il liceo scientifico, e il mio obiettivo è quello di proseguire gli studi con determinazione. Naturalmente te lo auguriamo! Continuiamo con la concorrente numero 12, Camilla! Buonasera, mi chiamo Camilla, ho 21 anni, vengo da Sant'Anna di Piave, e attualmente sto frequentando il tirocinio universitario, in alto locale, come ispettore della sicurezza sul lavoro. Quindi in futuro, oltre a creare gli esami, vorrei anche crearmi una famiglia. l'importanza della famiglia. Bene, Camilla in passerella. E andiamo avanti con Arianna, la concorrente che porta al numero 13. Buonasera a tutti, io sono Arianna, vengo da Vicenza, e nella vita sono allenatrice di moto, e le mie piassioni più grandi, insomma, a parte la moda, anche il pro della musica, infatti suono che non parte violino da otto anni circa, e un giorno mi lucerebbe anche diventare insegnante, perché no? Bene, naturalmente te lo auguriamo. Intanto eccoci qui a Miss Città Murata, numero 13. E da Arianna, passiamo a Marianna. Ciao a tutti, sono Marianna, ho 18 anni e vengo dal Vignasego. Ho appena finito la maturità e adesso vorrei continuare gli studi presso la facoltà di comunicazione e marketing per coltivare la mia passione per la lettura e per la moda. Infatti aspiro a diventare una modella, una fotomodella, e fare successo nel mondo del lavoro. Grazie. Bene, intanto sfilaci qui per la giuria. Marianna, numero 14. L'ultima Miss, la numero 15, Sydney. Buonasera a tutti, sono Sydney, ho 19 anni, vengo da Roncabi, provincia di Treviso. Nella vita lavoro per Sony Gozzi come costruente di bellezza e i miei opi sono la palestra della danza classica. Il mio sogno più grande sarebbe come diventare una modella, fotomodella, ma anche un'attrice, che infatti aspira nel tanto ad entrare nel mondo della moda da questo spettacolo. Grazie. Bene, naturalmente vi facciamo un grosso invocco al lupo. Nel frattempo è davanti alla nostra giuria la nostra concorrente numero 15, Sydney. Buonasera a tutti, sono Tessaria di Beatrice, ho di tre anni e abito ad Attivoli. Sono una solentessa di criminologia in prossimità della laurea. E dove ne arriva sta passione? È fin da piccola guardando televisione, sì, è vero. Può darsi. Il mio hobby è leggere, ascoltare le musici e fare ginastica a casa e nel futuro mi vedo come criminologa professoressa. Seguite la sui prossimi schermi. Prego, passerella! E dopo Beatrice forse abbiamo la Miss che arriva da più distante. Vero Bianca? Io sì. Da così è un po' lento. La mia domanda è riuscire ad aprire una palestra tutta mia. Bene, vedi. Hanno le idee chiare appunto le nostre ragazze. Nel frattempo sei qui a Miss Città Morata e quindi passerella per la nostra giuria. Prossima Miss in gara, numero 18, Denisa Maddalina. Cosa ci racconti? Buongiorno, sono l'arrivo a Tommunisa, ho 17 anni e mi fa più carico, invece di premiso. Nel tempo libero faccio palestra e sono anche influencer. E mi sono molto assietta quello di diventare famoso il giorno, ancora di più, e mi trasfino la panela. Bene, naturalmente noi te l'auguriamo. Intanto passerella anche per te, numero 18, Denisa. Numero 19, Rachele. Sono Rachele Salvanin, ho 17 anni, ho appena conseguito il diploma al liceo artistico di Padua con specializzazione in pittura. Nella vita sono un'artista, mi piace ogni... Ho studiato pittura, ma io amo ogni forma di arte, la pittura, la scultura, la scenografia, mi appassionano molto. E il make-up, soprattutto, preso della mamma. Il mio sogno nel cassetto è di continuare gli studi all'Accademia delle Belle Arti, con l'indirizzo designer. Mi piacerebbe diventare una designer. Passerella nel frattempo per Miss Città Murata, numero 19, Rachele. Buonasera a tutti, sono Elena, ho 21 anni e vengo da paese in provincia di Treviso. Sto studiando la facoltà di professione sanitaria all'Università di Verona. Le mie passioni più grandi sono lo sport e i viaggi. Infatti mi piace molto viaggiare per conoscere nuove culture, tradizioni e persone. Sei in precario equilibrio. Sono stata a New York, bellissimo, sì. E il mio sogno più grande è quello di diventare una modella. Eccola in passerella, infatti per Miss Città Murata, numero 20, Elena. Numero 21, Giorgia. Buonasera a tutti, io sono Giorgia, ho 17 anni e vengo a Maser. Frequento l'Istituto Tecnico in Audio a Montebelluna, di amministrazione finanza e marketing. e mi piace molto viaggiare e andare in palestra. E in futuro vorrei collaborare e sfilare per i prezzi di altra moda. Ok, naturalmente te lo auguriamo, passerella nel frattempo. E dopo Giorgia conosciamo Cosmina. Buonasera, sono Cosmina Elena, ho 22 anni e vengo da Ormelle. Sto concludendo la laurea triennale in Business Administration and Management e mi piacerebbe riprendere quello che è il percorso per rientrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Grazie. Grazie Cosmina Elena, passerella anche per te, numero 22, la nostra Cosmina. Numero 23, si presenta Selma. Buonasera a tutti, mi chiamo Selma, ho 21 anni, abito in provincia di Venezia, che è sudattima, precisamente, nella vita faccia l'impiegata e anche la modella. Diventare la modella internazionale, è proprio il mio sogno da quando ero piccolina. Qualche origine vado particolare? Sono di origine del Marocco, però sono andata qua in Italia. Ok, passerella anche per la nostra Selma, numero 23. Ultima messa in diara, ma solo a livello numerico, 24, Martina. Buonasera, sono Martina Bressanello, ho 17 anni e vengo da Treviso. Sono una studentessa e le mie passioni più grandi sono il teatro e la recitazione, infatti recito fin da piccola e ho recitato anche i vari cortometraggi e video. Anche la moda è la mia più grande passione, infatti mi piacerebbe studiare all'università e continuare il mio percorso come modella. Grazie. Naturalmente te lo auguriamo, eccola qui la nostra Martina. Facciamolo un applauso alle nostre Miss, le 24 bellezze che si contenderanno gli ultimi sei posti per la finale. Prego lo staff, c'è già qui Elena dello staff, pronta a raccogliere i voti della nostra giuria perché poi procederemo con l'elaborazione dei risultati. Non mi resta alto che appunto chiamare le nostre ragazze per la premiazione, le vedremo con l'abito offerto gentilmente da Stonehouse. Signore e signori, sigla! Musica 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 Andiamo ad assegnare la prima fascia, la fascia speciale di Miss Social Stonehouse, settima selezione, premia la nostra Giulia Bortolotto. Naturalmente questa fascia l'abbiamo già decretata alla vincitrice perché va alla ragazza che nella precedenza, Giulia vieni qui, fa anche il premio, ecco che arriva Aurora con il premio, e questa fascia è nata la ragazza che ha pubblicato più storie contenuti indossando i vostri capi. Miss Social Stonehouse è la concorrente che vince anche appunto il premio offerto da Stonehouse, la numero 24, Martina! Musica 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 Naturalmente questa è una fascia speciale, e quindi poi la nostra Miss può accompagnarsi per tornare dove eri prima ragazzi, potete lasciate un buco perché poi le ragazze passeranno situazioni, perché poi vincere ancora le fasce messe in base. Musica Chicola prima fascia Miss Sparadass-Pi-Cure, premia Mira Topjeva Pozzatolo. Lo dico giusto, vieni qua mira, lo dico giusto sto cognomite? Perché ogni volta te lo dico in modo diverso. Dimmi come devo dirlo. Topjeva! Ok, vieni qua mira che adesso facciamo arrivare la fascia. vinti pure in centro tu eri già stata Miss Città Murata qualche anno fa, vero Mira? a casa, i medrocchi forse bene, e allora Miss Paradise B2R vince il corso vince il buono per il corso di portamento lo sconto per il fotografico l'omaggio di Miss Città Murata la concorrente numero 4 allora grazie Mira, Aurora se vuoi fermarti qui prima facciata appunto della serata e continuiamo con Miss Violetto Communication premio Enrico Violetto ce l'abbiamo Enrico no, è andato via allora facciamo premiare dalla nostra Miss è andata via vince il corso di portamento il buono per il corso di portamento lo sconto del buon fotografico l'omaggio di Miss Città Murata Miss Violetto Communication è la concorrente numero 15 Sydney finiamo con Miss Tua Magazine vince il premio di Miss Città Murata è il buono per il corso di portamento lo sconto per il buon fotografico Miss Tua Magazine è la concorrente numero 14 Mariana la prossima fascia Miss Aria Capelli consegna la fascia Roberta De Zenna ecco qui vediamo se abbiamo Roberta Roberta ce l'abbiamo ecco la che arriva vince l'omaggio Aria Capelli il buono per il corso di portamento lo sconto per il buon fotografico Miss Aria Capelli è la concorrente numero 18 Denisa a favore di fotografo no aspetta facciamo due passi in avanti ce l'abbiamo fatta e andiamo avanti con la fascia Miss Rialto Asolo ce l'abbiamo Sabrina di Rialto Asolo sta arrivando eccola qua vieni pure qua Sabrina segna appunto la fascia alla titolare il gioiello eccolo lì di Sabrina di Rialto Asolo lo sconto sempre per il buon fotografico per il corso di portamento accede anche alla finale Miss Rialto Asolo è la concorrente numero 12 Camilla è la concorrente per il corso di portamento Grazie Sabrina E allora, sei impegnata il 4 di settembre o verrai alla finale? Verrò alla finale Ebbene, noi ti aspettiamo Grazie, prima finalista di questa sera Bene, mettiti là anche tu E andiamo avanti con Miss Chateau-Boschadre Premia sempre Giulia Bortolotto Miss Chateau-Boschadre Vince l'omaggio di Chateau-Boschadre Lo shooting fotografico presso Chateau Presso Stonehouse, ormai sto dando i numeri Stonehouse a Castelminio di Resana Il buono sempre per il corso di portamento E per il bus fotografico Miss Chateau-Boschadre E la concorrente numero 19 Rachele Foto per la stampa Grazie Giulia Cosa farai il 4 di settembre? Sei in ferie? No, non sono in ferie E allora, eccola qui un altro finalista per Miss Città Murata 4 di settembre Cittadella Grazie E andiamo alla prossima fascia Miss Risparmio Fineco Bank Vediamo se abbiamo Deborah Beh, verrà premiata appunto dalla nostra Deborah Marcon Vince il buono per il corso di portamento Lo sconto per il bus fotografico E l'omaggio di Miss Città Murata Naturalmente sarà anche lei finalista di Miss Città Murata Il 4 di settembre Miss Risparmio Fineco Banca E la concorrente numero 10 Lucrezia Foto diritto Grazie Deborah E allora, Lucrezia Anche a te la domanda Cosa farai il 4 di settembre? E noi ti aspettiamo Non ce n'è una che rinuncia Chissà come mai Chissà come mai Grazie E andiamo avanti con Miss Elmo Premi a Fulvio Naturalmente anche Miss Elmo Vince l'omaggio di Miss Città Murata Il buono per il corso di portamento E lo sconto per il bus fotografico Bene, continuiamo appunto con Miss Elmo SPA Global Security Solution Che è la concorrente numero 21 Giorgia Terza classificata della serata Bene, e allora Eccola qui la nostra Giorgia Miss Elmo Grazie Fulvio Allora Giorgia Il 4 settembre Dimmi che sei in ferie No, no Vengo Finale di Miss Città Murata Anche per la nostra Giorgia E andiamo avanti Con la seconda classificata Miss Bonanno Consegna la fascia Aurora Basso La terza classificata Dell'anno precedente Miss Bonanno Eleganza E allora La seconda classificata Vince il buono per il corso di portamento E per il bus fotografico L'omaggio di Miss Città Murata Sarà finalista per The Look of the Air Raccontaci brevemente Naturalmente la Miss Bonanno Sarà anche finalista di Miss Città Murata Il 4 settembre Miss Bonanno Immobili È la concorrente numero 23 Selma Allora Selma Domanda e diritto 4 di settembre Hai impegni? No E allora dove sarai? A tra finale Dimmi Città Murata E naturalmente ti aspettiamo Selma Seconda classificata Di questa sera Bene Siamo giunti A decretare la vincitrice Chiamo qui I titolari Dennis e Beatrice La fascia E la corona Aurora Basso Eccoli qua Accogliamoli con un grande applauso Sicuramente verrò un mercoledì Adesso uno dei prossimi Sto già organizzando col mio staff State in centro State in centro Vediamo se Dennis Che mette la fascia Dennis Ha fatto un po' di pratica prima Oh Oh Bene E allora Prima classificata Vince il gioiello della gioielleria Fagari di Campo San Piero Vince il buono per il corso di portamento Lo sconto per il book fotografico Parteciperà alla trasmissione radiofonica Su Radio Stereo Città Lunedì 29 luglio Vince l'accesso alla finale nazionale di The Look of The Year La finale di Miss Città Murata Del 4 settembre a Cittadella Vedetevi in centro qui anche tu Beatrice Miss Progress Country & Wine Asolo È la concorrente numero 9 Valentina Valentina Io le farei fare una passerella Perché lei è la vincitrice della serata Prego Valentina E allora ci sarà anche Miss Progress Country & Wine Naturalmente sarete invitati anche tutti voi Mettetevi pure al centro qua per le ultime foto Perché io procedo con i ringraziamenti finali Ringrazio il Progress Country & Wine di Asolo Per averci ospitato In particolar modo i titolari Tenis e Beatrice ed Alessandro per la collaborazione Ringrazio tutti i partner della serata Soprattutto il nostro main sponsor Buonanno Immobili E a seguire Elmo S.P.A. Stonehouse Chateau Bouchet Fineco Bank Rialto Asolo Aria Capelli Che ha curato le acconsature mie e delle Miss Paradise Speechwear Scuola di Moda Top Team Asia Zatta Communication Ringrazio Radio Stereo Città Radio Gemini Radio Caffè Città e Storie People Magazine Tuo Magazine Violetto Communication The Nordest Nostri media partner Ringrazio anche tutti i giurati Grazie ancora Con alcuni ci vedremo anche alla finale La cantante Giulia Tonini Le ballerine Giulia e Sofia Tutte le Miss che hanno partecipato Ragazze Per una di voi ci sarà ancora la possibilità di accedere appunto alla finale tramite il contest social di Miss Social Naturalmente ringrazio anche le mie sospiti Aurora, Giovanna, Francesca Vittoria e Daisy Ringrazio anche lo staff di Elegance Eventi Elena Sorato, Giovanna Ceccona, Elena Favarotto, Francesco Osto e Nicola Franco Ringrazio tutti voi del pubblico qui di questa sera che avete assistito a questa manifestazione L'appuntamento è per il 4 di settembre Siete tutti invitati Ci sono 800 posti a sedere Li vorrei riempire tutti Vi aspetto per scoprirlo assieme a me Da Elora Sorato è tutto Grazie e buona continuazione di serata Grazie sempre e solo con Miss Città Murata Grazie a tutti Amici di Faro Team abbiamo ufficialmente finito l'ultimissima tappa di Miss Città Murata Quindi da oggi più nessuno può partecipare per accedere alla finale Basta È chiusa Però c'è ancora la possibilità di accedere alla finale tramite il contest di Miss Social Stonehouse Esattamente Seguiteci sui social per capire come funziona e votare la vostra Miss preferita naturalmente Assolutamente abbiamo iniziato questo lunghissimo percorso all'Areas ancora nel 2023 Abbiamo fatto la primissima tappa No era a febbraio Era a febbraio del 2024 Ah no eravamo già nel 2024 E vedi con queste otto tappe ci siamo un attimo In realtà sono nove perché abbiamo fatto anche la tappa extra Ci siamo un attimo perche Ecco quindi Abbiamo finito qui questa sera in queste spalle delle colline Una splendida vista della Rocca di Asolo di cui poi farete vedere sicuramente Sì dopo queste interviste come ben sapete vengono fatte alla fine Quindi vi siete potuti godere la splendida vista prima dell'inizio di questa splendida serata Come sempre tu le sei stata un'ottima padrona di casa Il posto è stato splendido E abbiamo scelto le ultime ragazze Giusto Beatrice? Esattamente abbiamo scelto le ultime ragazze che accederanno direttamente alla finale Sono tutte bellissime Tutte che ci attendono qua dietro non vedono Loro entusiaste soprattutto Ma la voglia di venire qua a presentarsi perché sai Un conto è che dica Eleonora Sorato Presentati E loro serene e tranquille Poi vengono qua E non sanno cosa dire Cioè l'hanno detto dieci minuti prima fine Sì no tabula rasa Come mi chiamo? Oh mio dio quanti anni ho È sempre così Noi sembra che abbiamo dei mitragliatori al posto dei microfoni Fate paura Però adesso qua abbiamo veramente tirato il ballottaggio Delle ultime Perché adesso dovranno tutte prepararsi Perché chi vincerà? Per la super finale Esatto Chi sarà Miss Città Murata 2024 L'appuntamento è per il 4 di settembre a Cittadella e naturalmente vi aspetto Beh ovviamente come sai noi siamo sempre presenti Ho mancato solo un anno quello che ho partorito Per il resto è che ci sono sempre stata Sei stata perdonata Infatti sono stata esentata con certificato medico del ginecologo Esatto Se no col cavolo Scusate c'è un cimice che vola Quindi se mi vedete partire sapete il motivo Va bene però noi comunque invitiamo tutti i nostri amici Ci vediamo 4 settembre Miss Città Murata a Cittadella Ciao Grazie amici di Ferro Team Grazie a tutti amici di Ferro Team E attualmente sto svolgendo il tirocino universitario presso la Slocale Come ispettore della sicurezza sul lavoro Ho da poco finito gli esami quindi spero di laurearmi presto E nulla Bene, bella domanda, dubbi, proglessità? Contenta di questa fascia stasera di accedere direttamente alla finale? Sì molto contenta Diciamo che non me lo aspettavo per niente È il mio primo concorso quindi La fortuna del primo concorso La fortuna del principiante No, del primo concorso Non siamo mica principianti qua Al minimo E quindi sì Allora ce l'abbiamo fatta L'abbiamo volata a casa E tra l'altro è rientrata a pelissimo per accedere alla finale Esattamente Adesso noi ti salutiamo, ci vediamo in finale Certo, grazie mille Grazie a te Quinta classificata Miss Chateau Boccedre Buonasera Buonasera Lei è? Rachele Salvagnin Cosa fai? Da dove vieni? Quanti anni hai? Cosa fai nella vita? Vengo da Piavo di Sacco in provincia di Padova Mi sono appena diplomata al liceo artistico di Padova Con le specializzazioni in pittura Adesso mi godo l'estate E a settembre inizio l'università All'Accademia delle Belle Arti di Venezia Ah però, completamente Cosa vorresti fare in un futuro? Vorresti continuare nel mondo artistico? Vorresti specializzare in qualcos'altro? Mi piacerebbe specializzarmi in interior designer Ah qualcosa di diverso qua, interior design, bello Poi mi fai la casa? Va bene Va bene, ok perfetto C'era anche tu ogni volta per i quei scopi che metti il naso Ma è vero perché mi sono trovata la fisioterapista, il medico Questa si è fatta tutta la rubrica delle cose che ha bisogno Era una approfittatrice da licenziata Veramente Licenziata, basta Pronta per la finalissima? Certo Bene, detto questo passiamo alla quarta Esattamente, ti lasciamo andare Grazie Buonasera E con Miss Risparmio e Fineco Bank Siamo qua con un'altra spagnia di amore Perché tu le more, cioè perché io le more e tu le bionde non l'ho ancora capito Non lo so Però passiamo anche a questa spagnia di da Miss Buonasera a tutti Buonasera Io sono Lucrezia Giglio D'Oro, ho 16 anni e vengo da Treviso Nella vita sono una studentessa Infatti frequento il terzo anno di liceo linguistico E mi piace molto viaggiare E in futuro vorrei laurearmi in giro in scudenza E intraprendere la carriera di magistratura Beh, un lavoro facilissimo in Italia, va detto Però non mi serve L'avvocato per ora non mi serve Ma è magistrato o un'altra cosa? Non sei ancora diventata mafiosa Quindi non ti serve questa cosa? No, non mi serve ancora E ci ritorniamo Quando la condannerai per la stazione delinquere Allora li servirai, capito? Per ora non mi serve Quindi ti diamo appuntamento alla finale del 4 settembre Grazie mille Alla prossima Miss Terza classificata Miss Elmo Global Security Solution Buonasera Mamma mia che occhi aiuto Ragazzi Scusate ma Sapete quando io sono nelle retrovie E non vedo queste Miss proprio così da davanti Poi vengo qua all'intervista Tu hai due occhi meravigliosi Grazie Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai nella vita? Mi chiamo Giorgia Ho 17 anni E vengo da Maseri In provincia di Treviso E studio All'inaudi Di amministrazione finanza e marketing Che è appunto un istituto tecnico E nella vita appunto Mi piace la moda in generale Spirare Indossare vestiti Quindi nel tuo futuro Ti vedresti comunque In una carriera da modella Prima di magari specializzarti In un mondo del lavoro normale Sì Il mio obiettivo principale È fare appunto la modella O fotomodella Modella di make up Secondo me è un grandissimo potenziale Anche perché veramente Ti congela con questi occhi L'hai visto Ecco se l'ha visto lei Siamo a posto Beh noi allora Ti diamo appuntamento alla finale Giulia dobbiamo proseguire Le vorrei tenere qua tutta la notte Ma parli con me Che per me potremmo Veramente fare anche il triplo Della velocità Dobbiamo proseguire Mi dispiace In bocca al lupo Scusatela Ci sta esaurindo E con Miss Bonanni Immobili Abbiamo una splendida moracciona Che direi che L'abbiamo vista Stravista Rivista Ben due playlist nel nostro canale Bene addio Ciao Ciao Piacere Arrivederci Ma no praticamente La tua presentazione non serve Però sai che si iscrivono Sempre un sacco di persone ogni giorno Quindi ti tocca rifarla Va bene allora Buonasera intanto Mi chiamo Salma Ingaud Ho 21 anni Abito a Fiasso d'Artico In provincia di Venezia E nella vita faccio l'impiegata Non fai solo l'impiegata Bugiarda Faccio anche la modella E il mio cane Una grande simpatia per lei Fa anche la modella Ma è anche diventata La poco mamma Si è vero Di Tre gattini Sono tre È diventata mamma Di tre gattini Che sono meravigliosi Va detto Perché noi dobbiamo comunque Dobbiamo anche rendere Partecipi tutti Della tua maternità Va detto ciò Ma cosa più importante Ti si è giudicata una fascia Per la finalissima di Mi città murata Secondo te Le riesci a battere tutte E a vincere Domanda È una domanda dura Giuliana È una domanda dura È una domanda che Questa scotta Immagino l'abbiate fatta Solo a me Assolutamente Assolutamente Sei una Sei una pluriveterana Del mestiere Figurati Se non possiamo Non far a te Una domanda del genere Hai vinto un sacco Di concorsi Vero Vero Però Sono rimasta in pausa Per un bel po' di tempo Con i concorsi Però perché no Mi sono messa in gioco Con mi sono ammurata Quest'anno Vorrei dare il massimo Esatto Chi può dirlo Noi diamo il massimo E magari ritorni alla ribalta Già con la prima corona Esatto Mai dire mai Adesso Salma Noi ti salutiamo Ti congeliamo E passiamo Alla miss delle miss Di questa serata Ed ecco qui La nostra reginetta Di questa sera Miss Progress Country Wine Di Asolo Buonasera Ciao a tutti Lei ha la corona Che pesa di più Ricordiamolo Perché lei ha la corona Dell'ultima tappa Perché è quella Che hai aspettative Che dicono Tu l'hai vinta la prima Tu l'hai vinta l'ultima Quindi di solito Diciamo che c'è lo scontro Tra i due titani Quando si arriva alla finale Esatto Ma io adesso Prima di vedere alla finale Se la nostra Miss Progress Country and Wine Di Asolo Vincerà anche la corona Di Miss Camurata Vorrei dire Noi vogliamo sapere Età Da dove viene Nome e cognome Volendo Non so Anche Liban Se qualcuno vuole farti un bonifico Eh guarda Bonifici Magari ti arrivano Quindi mai dire mai Magari lo si mette Allora Io sono Valentina Campese Vengo da Sarcedo In provincia di Vicenza Ho 17 anni E nella vita Studio sistemi informativi aziendali In un istituto tecnico E mi piace come settore Mi piace la scelta che ho fatto E spero di continuare Poi anche all'università Magari Mi piacerebbe fare Interior Design Interior Design Ragazzi Quattro Tutti arredano la casa Beatrice Esatto Tutte quante vengono A casa mia Ad arredarmi la casa Perfetto Non dico di no Perfetto Allora ti aspettavi la coroncina Questa sera? No No Non era il tuo primo concorso? No no Non era il mio primo concorso Prima corona Miss Città No Seconda Seconda Miss Città Murata Non l'avevo mai presa Ah ecco Allora prima corona Qua Miss Città Murata Magari fai la doppietta Il 4 di settembre Non penso però Dai Mai partire così Bisogna sempre partire Puntando al massimo Poi ragazzi Giulia ti faccio notare nuovamente Gli occhi di Vanetti Prego guardare Eh sì Questi sono ancora più cari degli altri Ragazzi Io non ce la faccio Questi occhi meravigliosi Che hanno questa miss Beh a chi c'è Lema degli occhiali Tanto sei una talpa Senza Ecco Bene Eh beh sì Così almeno Non ti abbagliano più Questi splendide ragazzi Riusciamo a continuare le interviste Hai ragione Giulia Lo farò la prossima volta Va bene Allora Valentina Noi ti salutiamo Ti auguriamo un grande In bocca al lupo Per la finale Vediamo se riuscirai A staccare L'altra corona Quella che pesa Un po' di più di questa Esattamente Ma sai che Come su tutto Per vincere Bisogna fare tanto allenamento E prepararsi bene E soprattutto con costanza Hai tutto il tempo Per poterlo fare Quindi allena Ti vedrai che i risultati arriveranno Grazie mille Grazie a te Ciao grazie Beh che dire È finita È finita È finita Con un allone di gioia Un allone di tristezza Possiamo ufficialmente dire Che è finita Che è finita anche Miscita Murata Con la nona tappa Abbiamo concluso Questo percorso Che è cominciato a febbraio All'Arias di Castelfranco Di Miscita Murata 2024 Quasi Quasi finita Quasi Perché ci manca ancora la finale Manca ancora il decretare Una vincitrice ufficiale Che poi ci porterà Tutte le gioie Del punto del 2025 Quindi che sarà La madrina Di tutte le tappe Chissà Mora Bionda Capello lungo Capello corto L'anno scorso abbiamo avuto Una bionda Capello lungo Che poi a mezza via Ha fatto il caschetto Esatto Mai dire mai Vediamo quest'anno Però sai questa cosa vuol dire Questa serata che stiamo facendo Beh che la stagione Amici GD Farro Team Sta già volgendo al termine Perché abbiamo già finito La prima L'abbiamo già finito La seconda Il secondo concorso A livello di tappe Questo vuol dire Che tra poco Li finiremo tutti E ci sarà solamente la finale Quindi Manca poco Che noi per questa stagione estiva Ci saluteremo Ma non vi preoccupate Che tanto ricominciano Subito da novembre E la stagione estiva prossima Veramente Ma concorsi a parte Qua GD Farro Team Non si ferma mai Noi li salutiamo All'ambito del concorso Poi loro lo sanno Che noi d'inverno Li martoriamo Li martoriamo Ma bisogna ricordarlo Ci sono un sacco di novità Tra l'altro Che erano Messe a livello Dentro GD Farro Team Tra l'altro Anche un salottino Molto speciale Non vediamo l'ora di mostrare Assolutamente Abbiamo preparato Un sacco di format per voi Però questa sera Salutiamo anche questo concorso Per poi salutarlo ufficialmente Alla finale Prima di vederlo Il prossimo anno Amici GD Farro Team Da me Beatrice È stato un onore Fare anche quest'anno Le tappe di Miss Città Murata Un bacio E ci vediamo Alla finalissima Ciao Ciao